E' stata l'ennesima giornata di riunioni improduttive, quella in casa del centrodestra. Oggetto della partita è ormai da settimane la candidatura a sindaco di Campobasso e di riflesso quella per il comune di Termoli. Partendo proprio dalla cittadina adriatica è spuntata l'ipotesi legata all'ex sindaco Alberto Montano che finirebbe in quota Fratelli d'Italia qualora il partito di Giorgia Meloni fosse costretto a cedere la mano a Campobasso. Appare tuttavia improbabile che il presidente della regione, Roberti, rinunci ad un proprio uomo in casa propria. Quindi, ritornando al via come nel gioco del monopoli, se Termoli significa Roberti e quindi Forza Italia, nel capoluogo di regione si riapre la partita per Fratelli d'Italia. L'ipotesi che gli uomini della Meloni puntino tra due anni su Isernia è una fantasia lunare destituita di ogni fondamento. In politica si riscuote subito il consenso maturato, non a scoppio ritardato. Il rompicapo quindi potrebbe essere risolto per Fratelli d'Italia solo a Roma, direttamente da Giorgia Meloni, tramite l'ufficiale di collegamento con il territorio Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione del partito. Fratelli d'Italia, è noto, ha calato sin da subito il carico da undici col nome di Quintino Pallante, ma il presidente del Consiglio regionale, davanti alle torsioni della coalizione, ha preferito fare un passo indietro, che tale è e tale resta. Al momento sulla soglia dell'inquilino più importante di Palazzo Daimmo continua a campeggiare la parola no. L'interessato esclude una sua nuova discesa in campo, ciò ovviamente va misurato con quanto accadrà nelle prossime ore a Roma. Qualora venisse stabilito che sarà la bandiera di Fratelli d'Italia, quella piantata dal centrodestra su Campobasso, da Roma verrebbe ancora una volta l'indicazione sul nome di Quintino Pallante. Sugli altri versanti è praticamente sparita l'ipotesi Gianluca Cefaratti in Quotalega e per quello che riguarda Forza Italia, l'ipotesi circolata, quella di Nicola Cavaliere, è l'equivalente di una ipotesi di scuola. Resta il nodo Popolari per l'Italia, la formazione che fa riferimento al sottosegretario regionale Niro rivendica per sé uno spazio che però gli alleati di coalizione non intendono concedere.